cari ascoltatori vi saluto calorosamente nel prezioso nome del signore con la parola in primo corinzi capitolo 12 versetto 28 e dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli in secondo luogo dei profeti in terzo luogo dei dottori dopo che paolo sotto la guida dello spirito santo descrive i nove doni dello spirito e presente il corpo di gesù cristo come chiesa nella diversità si occupa ulteriormente dell'ordinazione dei ministeri e dei compiti nella chiesa va ribadito che la sacra scrittura non descrive un movimento religioso una certa chiesa o una chiesa libera ma la chiesa del dio vivente un servitore di dio non è vincolato da nessuna direzione di fede ma a tutti i figli di dio sparsi nelle diverse chiese loro devono essere chiamati a venire alla conoscenza della verità per formare la chiesa di gesù cristo che sarà rapita tutti coloro che appartengono alla chiesa del signore rispettano l'ordine divino e riconoscono il ministero di un servitore inviato da dio sia che si tratti del ministero di un apostolo di un profeta o di un insegnante della bibbia si tratta sempre dell'edificazione della chiesa in generale viene riconosciuto il ministero di un pastore o di un evangelista ma la cosa è diversa con i primi tre ministeri tuttavia dio ritiene tutti i ministeri necessari per l'edificazione della chiesa in atti degli apostoli capitolo 13 versetto 1 leggiamo nella chiesa che era ad antiochia c'erano profeti e dottori loro sono elencati per nome durante una riunione di culto lo spirito santo disse mettetemi da parte barnaba e psaulo per l'opera la quale li ho chiamati nelle riunioni di culto odierne non si sente più che lo spirito santo parla ancora si sa soltanto che un pastore o un predicatore ha parlato si dovrebbe prestare attenzione al fatto che nel versetto 4 sta scritto essi dunque mandati dallo spirito santo gli uomini di dio la cui chiamata e missione è rivelata e confermata dallo spirito santo nella chiesa possono andare avanti con la benedizione in efesini capitolo 4 versetto 11 leggiamo che dio ha stabilito nella chiesa prima apostoli secondo profeti terzo insegnanti evangelisti e pastori il motivo per l'istituzione dei cinque ministeri si trova nel versetto seguente qui sta scritto per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di cristo qui ci viene mostrato in che modo la chiesa di gesù cristo viene edificata laddove mancano questi cinque ministeri non si può parlare spesso oggi si sente dire abbiamo cristo e la parola e quindi non abbiamo bisogno di apostoli o profeti intendono dire che la chiesa primitiva non aveva cristo e la parola ha dio per questo stabilito apostoli profeti e gli altri ministeri si intende dire con questo che la chiesa di antiochia non aveva sperimentato cristo perché lì c'erano profeti e insegnanti che sotto la guida dello spirito santo esercitava nel loro ministero non ha lo spirito santo parlato lì durante la riunione di culto un apostolo è un uomo mandato da dio con una visione d'insieme e con la divina responsabilità per la chiesa del signore la parola apostolo significa mandato il compito di un apostolo è quello di fondare chiese in modo biblico e stabilire gli anziani in merito a paolo e barnaba che in atti capitolo 14 versetto 14 sono descritti come apostoli nel versetto 23 sta scritto dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregate digiunato li raccomandarono al signore nel quale avevano creduto paolo ha sottolineato questo ministero scrivendo noi dunque facciamo da ambasciatori per cristo in efesini capitolo 2 versetto 20 leggiamo siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo cristo gesù stesso la pietra angolare in atti capitolo 2 versetto 42 leggiamo ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli il ministero di un profeta nella chiesa del nuovo testamento consiste principalmente nel presentare la parola profetica nel significato divino in primo corinzi capitolo 14 versetto 29 sta scritto anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino gesù cristo stesso ha promesso in matteo capitolo 23 versetto 34 perciò ecco io vi mando dei profeti e gli disse questo dopo che il ministero del ministero dei profeti dell'antico testamento e il ministero di giovanni battista erano terminati in matteo capitolo 10 versetto 41 il signore disse chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta questa promessa sarebbe del tutto ingiustificata se il signore non avesse collocato dei profeti nella chiesa il ministero di un insegnante della bibbia è strettamente legato al ministero dell'apostolo e del profeta un insegnante inviato da dio ha la capacità di spiegare in dettaglio alla chiesa le cose rivelate dagli apostoli e dai profeti il ministero di un insegnante della bibbia appartiene alla chiesa del dio vivente e non a un seminario di predicazione poiché sta scritto dio ha posto nella chiesa il ministero di un evangelista ci è ben noto ma bisogna dire che gli evangelisti moderni di questo tempo hanno poco in comune con il ministero biblico di un evangelista un evangelista chiamato da dio non ha una propria società il suo ministero si svolge nella chiesa del dio vivente in collegamento con tutti gli altri ministeri in atti capitolo 8 leggiamo di filippo per mezzo del quale scoppiò un grande risveglio in samaria e anche degli apostoli pietro e giovanni che andarono in samaria a pregare con i credenti affinché ricevessero lo spirito santo la chiesa di gesù cristo non conosce un ministero unilaterale ma una partecipazione totale in tutti i ministeri che dio ha stabilito il compito di un pastore è di pascere la chiesa locale come gregge di cristo un pastore ha la capacità data da dio di portare alla chiesa ciò che è necessario per la sua edificazione è responsabile del benessere della chiesa e sa quale cibo spirituale il buon pastore ha scelto per le sue pecore cari ascoltatori qui abbiamo solo la possibilità di indicare ed esaminare brevemente ogni ministero il nostro desiderio è dimostrare come l'edificazione della chiesa della chiesa del dio vivente in armonia e nell'unità avviene attraverso lo spirito santo e come vengono esercitati i ministeri e i doni dello spirito quando guardiamo le chiese del nostro tempo non dovremmo cadere con le nostre facce a terra e chiedere al signore nostro dio di mandare di nuovo degli operai nella sua vigna il raccolto è maturo e il ritorno di gesù cristo è vicino dove la chiesa che il signore può rapire cari amici è estremamente importante che come al principio gli stessi ministeri siano adesso manifestati nella chiesa non si tratta di uno che finge di essere un apostolo e l'altro che finge di essere un profeta questo non aiuterebbe nessuno si tratta solamente che dio operi adesso nella stessa maniera e che possa confermare la sua parola come ha fatto nel cristianesimo primitivo invito tutti nel nome del signore a portare questa richiesta di preghiera davanti al trono di dio che egli faccia grazia in modo che nessuno manchi l'obiettivo eterno preghiamo padre celeste ti prego di benedire adesso tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola che possano rendersi conto che solamente ciò che tu hai operato attraverso il tuo spirito santo secondo la tua parola può sussistere davanti a te custodisci ognuno di loro dalla grande delusione e ripolta di tutti a te e alla tua parola te lo chiedo nel nome di Gesù amén grazie an Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.